Giunto alla 36esima edizione, il motoraduno internazionale dell'Etna è uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati e non solo. Del 3 al 5 agosto migliaia di centauri scorazzeranno per le vie e i sentieri più belli della provincia etnea e una tappa sarà rappresentata da Piazza Università dove sabato 4 agosto ci sarà per la prima volta in assoluto l'accensione delle tripode in onore dei motociclisti scomparsi. La sfilata in Mietternea viene definita per la sua importanza la parata delle luci e quest'anno sarà aperta da una coppia di sposini in abito da cerimonia e in moto. Un altro evento importante per la nostra città, tanti motociclisti arriveranno a Piazza Duomo e poi guarderanno quelle che sono le zone più belle della provincia. Ma guardi, noi da 4 anni abbiamo aperto le porte della città al motoraduno che oggi raggiunge quest'anno la 36esima edizione e che vede man mano aumentare il numero dei partecipanti. L'anno scorso sono stati oltre 4.000. Io penso che mettere a disposizione di migliaia di motociclisti che vengono da tutta Italia e non soltanto dall'Italia la bellezza della città sia un fatto importante per la città, tanto è vero che quest'anno l'abbiamo inserito addirittura questa manifestazione anche nell'estate catanese. Io sabato darò il benvenuto e il saluto accendendo anche la fiaccola e il tripode che rappresenta proprio il fatto che Catania è diventato la capitale di questo motoraduno. Sono entusiasta e siamo ovviamente soddisfatti. Anche questo dimostra come una città può ricrescere attraverso le centinaia di manifestazioni che contraddistingono l'estate catanese senza spendere soldi da parte del comune di Catania. Questo è il significato più grande perché io ricordo, come lo ricordo tutti i catanesi, le stagioni in cui si spendevano miliardi di lire o milioni di euro senza che sia rimasto nulla per la città.